Ah, inizia così, a caso, senza menu niente, inizia soltanto col tasto del titolo e col play, ok Ehi ciao a tutti ragazzi e benvenuti Sì però state calmi per piacere Ehi ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Nadafaioli e oggi siamo su Notz Timor Praticamente Notz Timor è un gioco horror E dall'altro ragazzi sto giocando questo gioco horror al buio E dall'altro è buio Madonna che grafica Ci sono dei coltelli che posso prendere ma non me le fa prendere Apriamo la nostra prima porta Preset to open Ah, tra passo le... No Oddio mio No, per piacere, non voglio andare via Donna È un bagno, è un bagno questo gioco Cos'è? C'è del sangue Oddio Che cazzo sei? Salve Ma quello mi guarda Ma quello mi guarda Oddio ma c'è un manichino che mi sta guardando C'è un manichino che mi sta guarda No eh Io me ne vado Sono stato Bello giocare con te Ma voglio andare a dormire Ciao C'è qualcosa tipo Tipo No ma mi sta seguendo quello Oddio mio Cristo santo Vattene via Che cazzo sei? Perché sei qui? Sono felice di vederti Oddio Ma che cazzo è? Ma che cazzo sei? SCP-173 che fai Cioè avevo preso una nota e c'era scritto Sono felice di vederti Ora io chiudo la porta Sto al chiedere il cazzo Oddio Non c'era questo posto prima Non c'era Ok Cazzo 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 Scorri corri 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 Io chiudo la porta Uncritto Ancora Oh portatroyo Cazzo Oddio Oh salve Oddio mio Oh cazzo Che puoi posto Ma perché Ma se li tocco mi fanno jumpscare Ora faccio una prova Ah no se li No se li No non li tocco Non mi Non mi li fa toccare Ok Cosa volete da me Maniaci Ma io vado qua Chiudo la Apro la porta Così voi potete venire No si è chiusa la porta da solo No veramente No me ne vado io da questo posto Ah ma siamo nella stanza di prima Nel bagno Ma Sono felice di vederti ancora ma Ma cosa Puoi scappare ma cosa No prima c'erano dei tizi prima No 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 Vi dovete No non mi prendete per il A pensarci meglio Era meglio andare in bagno con loro Ora ad uccidermi Oh no c'è un altro foglio C'è un altro foglio C'è un altro cazzo di foglio Ah salve Ma lei è il reik Salve Ok Ok You'll come back Anyway Tu ritornerai Ma chi cazzo sei Spring Io Torno sempre indietro Oh ti sei dimenticato la luce del bagno accesa Vedi Io Torno sempre indietro Ma adesso dove cazzo siamo Ma questa è casa nostra Oddio un altro foglio Adesso comparirà uno a caso Ok No allora Tu devi avere Tu non hai scelta Non hai scelta Ma che cosa Che cosa Che cosa scappare Non credo proprio Ma perché mi prendono quelli Oh Mi prendono degli spami No è chiusa la porta Bene Bisogna trovare le chiavi Ma questi fanno jumpscare Madonna mia Ok Questa è aperta Oh no C'è una cazzo di libreria Dovrò cercare le chiavi In sto posto di me Tu non vuoi scappare da me Ma chi sei Chi ti conosce Ma chi ti conosce Ma chi ti conosce Mastardo Hanno fatto cadere un È caduto il libro Maledetto Io sono una parte di te Ma sei la mia ragazza Che fai queste cose Una chiave Ok Nessuno ha fatto Brutti scherzi Salve Ah Voi siete I bodyguard Giusto Sì ma non guardarmi Con quella faccia Tanto Ah c'è una torcia Posso prendere la torcia Invece di Oh Sì Vabbè Cosa c'è scritto Questo è il mio mondo Fancula il tuo mondo Oddio Oh ho trovato un foglio Tanto succederà qualcosa Ogni notte Grazie a Dio Salve Tu sei intrappolato Lì dentro Ma che cazzo dici Io me ne vado Ok Ok Oh cazzo Oddio C'è il dottore della peste È lui Sono felice di vederti ancora Non puoi scappare Ma Tu ritornerai Indietro Tu non hai un'altra scelta Non puoi scappare da me Sono parte di te Questo è il mio momento Puoi vivere Puoi vivere Ogni notte Ma sei intrappolato Sarai Timor Ho scoperto che c'è anche un sequel Di notte Timor E E E sarà forse Tosto anche questo Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like I commenti Iscrivetevi al canale Vi lascio i social Link in descrizione Il codice discord D'amicizio sempre Ve lo lascio in descrizione Ci vediamo al prossimo video Ciao